Monza Camper oggi presenta il Carado i447 in pronta consegna. Il motoron Carado i447 ha 5 posti omologati. I comodi letti gemelli con confortevoli doghe in legno sono trasformabili in un letto matrimoniale grande e garantiscono 5 posti letto insieme a un letto matrimoniale basculante con elementi clima plux e materassi di qualità. I pensili hanno la chiusura soft close con spaziosi vani di stivaggio. La cucina ha un fornello a tre fuochi con griglie e ghise in copertura in vetro e un frigorifero trivalente da 167 litri con freezer separato da 29 litri. Il gavone è accessibile da due portelloni e ha una capacità di carico di 150 kg. I pacchetti Emotion e Chassis Comfort rendono il veicolo speciale con finestre con cornice, lamiere Corolle Champagne, cerchi in lega da 16 pollici, fasci luci diurne a LED, fari con cornice nera. Il motore è un Fiat Ducato 2003 Multijet da 117 kW, 160 cv, con funzione start and stop Euro 6D. Il Carado i447 ha ben 7 anni di garanzia sulla impermeabilità. Il sistema di riscaldamento è un Truma Combi 6 a gas, con boiler integrato da 10 litri, alimentato da due bombole a gas da 10 kg. Il tetto e la parete posteriore sono in vetore resina robusta, mentre le pareti laterali sono in lamiere di alluminio liscia. Le ampie vetrate anteriori ti faranno godere la vacanza già durante il viaggio. Il Carado i447 è un motoron modello del 2020, lungo 7,41 m, largo 2,32 m, alto 2,93 m. Cogli la tua occasione, contattaci per maggiori informazioni. Monza Camper, più liberi, più felici.